Ciao creatura Io sono Ecco di Splendente e benvenuta bentornata nel regno di Cosai S M A Questa sera ti porto un video un po' diverso dal solito che mi è venuto in mente di potrebbe fare, potrebbe aiutare sia con l'insonnia per rilassarti sia anche proprio può aiutarti a livello personale e tutto ciò che dovrai fare è solamente chiudere gli occhi indossare le cuffie se non l'hai fatto straiarti metterti in un luogo tranquillo 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 dove nessuno verrà a disturbarti e ripetere le frasi che io ti sussurrerò all'orecchio puoi ripeterle ad alta voce o sussurrando sto diluviando fuori non aver paura e si sta rinfrescando sta piovendo e puoi ripeterle sia sottovoce ad alta voce o anche con la tua mente come preferisci l'importante è che le assimili e le ripeti anche tu in un modo o nell'altro va bene e nel mentre fanno un po' i brushing sulla videocamera per rilassarti coccolarti ti do un po' di tempo per sistemarti accomodarti metterti le tue cuffie straiarti poi iniziamo va bene creatura se ancora non l'hai fatto lasciami un like e iscriviti al mio canale e attiva la campanellina per non perdere nessun nuovo video super super mega rilassante insieme ok iniziamo creatura ascolta ripeti con me io valgo 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 sono importante per me Sono importante per me. Sono importante per me. Io attracco. Io attracco. Io attracco. Ciò che è destinato a me sta arrivando a me. Ciò che è destinato a me sta arrivando a me. Ciò che è destinato a me sta arrivando a me. Io sono abbondanza. Io sono abbondanza. Io sono abbondanza. Io sono amore. Io sono amore. Io sono amore. Io sono amore. Io sono gioia. Gioia. Io sono gioia. Io sono gioia. Io sono gioia. Io sono intelligente. Io sono intelligente. Accetto me stessa come sono. 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 Ciò che desidero è importante. Ciò che desidero è importante. Ciò che desidero è importante. Ho il potere di realizzare tutto. Tutto quello che desidero. Ho il potere di realizzare tutto quello che desidero. Sono grata di tutto ciò che ho. Sono grata di tutto ciò che ho. E ringrazio l'universo. Grazie. 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 Ringrazio l'universo. Grazie. Grazie. E ringrazio l'universo. grazie ripetiamo ancora insieme io valgo 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 sono importanti per me sono importanti per me sono importante per me sono importante per me io valgo io valgo io valgo io attracco io attracco io attracco a me a me sta arrivando a me ciò che è destinato a me sta arrivando a me a me ciò che è destinato a me sta arrivando a me ciò che è destinato a me sta arrivando a me io io sono abbondanza io io sono abbondanza io sono abbondanza io sono amore io sono amore io sono amore amore io sono gioia io sono gioia io sono gioia io sono gioia io sono sono intelligente io sono intelligente io sono intelligente io io sono intelligente accetto me stessa come sono 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 ciò che desidero è importante 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 il potere di realizzare tutto tutto quello che desidero tutto quello che desidero ho il potere di realizzare tutto quello che desidero ho il potere di realizzare tutto quello che desidero ho il potere di realizzare tutto quello che desidero ho il potere di realizzare tutto quello che desidero ho il potere di realizzare tutto quello che desidero ho il potere di realizzare tutto quello che desidero ho il potere di realizzare tutto quello che desidero sono grata di tutto ciò che ho e ringrazio l'universo sono grata di tutto ciò che ho e ringrazio l'universo sono grata di tutto ciò che ho e ringrazio l'universo sono grata di tutto ciò che ho e ringrazio l'universo sono grata di tutto ciò che ho e ringrazio l'universo lui c'è anche una brezza e ringrazio l'universo io raccordi 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 io valgo, sono importante per me, 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 io attrago, 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 io attrago ciò che è destinato a me sta arrivando a me ciò che è destinato a me ciò che è destinato a me ciò che è destinato a me sta arrivando a me ciò che è destinato a me sta arrivando a me io sono abbondanza io sono abbondanza io sono abbondanza io sono abbondanza io sono amore io sono amore io sono amore io sono gioia io sono gioia io sono gioia io sono gioia io sono intelligente 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 io sono io sono io sono io sono io sono come sono accetto me stessa come sono ciò che desidero è importante 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 ho il potere di realizzare tutto quello che desidero ho il potere di realizzare tutto quello che desidero ho il potere di realizzare tutto quello che desidero ho il potere di realizzare tutto quello che desidero ho il potere di realizzare tutto quello che desidero ho il potere di realizzare tutto quello che desidero sono grata di tutto ciò che ho 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 e ringrazio l'universo 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 grazie 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 spero che questo video ti abbia fatto rilassare come sempre ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura